Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questa nuova puntata di Super Mario 3D Land. Dovremo affrontare il quinto mondo del mondo speciale 8, che richiede ben 270 monete. E a quanto pare sarà un livello sulla nave fantasma. Quindi tuffiamoci all'arrembaggio! Oh no, dupli Mario in un livello con la nave. Non oso guardare. Rulia ad alta velocità. Questo livello non promette niente di buono. Forza, forza Luigi! Forza! Ce la puoi fare, noi crediamo in te Luigi! Forza, forza! Salti sulla piattaforma, ma che cosa fa? Ma io non lo so. Si è bevuto il cervello. Ma quando sparisce dupli Mario? No, è una mia curiosità. Forza, corra Luigi! Io ce l'abbiamo fatta per un pelo. Per un rosso malpelo. Forza, corriamo! Dai Luigi! Non puoi perdere! Insomma, sei Luigi! Il fratello di Mario! Bene! Oh, è il signor Lorenzo qualche fa. Errone. Da capogiro. Forza, siamo quasi arrivati alla fine! Forza, Luigi! Forza! Oddio la bandiera! Vediamo la bandiera! Non mi perda ora, signor Lorenzo! Forza, prenda la rincorsa e... Addio Dublimario! Oh, è anche un'app! Incredibile! Perfetto ragazzi! Abbiamo completato anche il quinto livello del mondo speciale 8! Wow! 3 SBM! Allora ragazzi, per questa puntata di Super Mario 3D Land è tutto. Nella prossima puntata dovremo affrontare l'ultimo livello del mondo speciale 8! Ciao a tutti! Vabbè, ciao!